buonasera amici del canale oggi giornata molto piovosa comunque spero spero tanto di regalarvi altri bei video però la vedo dura dura ragazzi la vedo dura a parte il fatto che già settimana scorsa ci sono state delle precipitazioni quindi sono stato anche fortunato a trovare quei funghi integri non so se avete visto l'ultimo video quello del 24 bei ritrovamenti di boletus etulis dei bellissimi ritrovamenti che in base al periodo diciamo non è male l'annata quest'anno non è stata molto bella devo dire quindi mi posso reputare fortunato in un certo senso oggi vi volevo parlare di come fare ritrovamenti in questo periodo in questo periodo ci ritroviamo in una condizione dove fa freddo non fa molto freddo in base del periodo però diciamo che le temperature già stanno iniziando a scendere drasticamente quindi cosa dobbiamo fare prima di tutto cercare l'habitat giusto che sia una faceta misto castagne o solo faceta e la cosa fondamentale da tenere bene in mente è andare a visionare tutte le zone più esposte al sole si poi può capitare diciamo il ritrovamento quello più magari più più all'ombra più riparato in base al freddo diciamo capita anche questo il fungo cercare le condizioni quelle giuste il vero motivo è questo andare a cercare specificatamente zone aperte non zone troppo chiuse zone dove dove gli alberi sono più aperti dove si batte il sole tutto il giorno e niente questa è la cosa importante la cosa importante è un'altra ragazzi non si molla non dovete mollare per nessun motivo una buona serata